Appuntamenti culturali per riappropriarsi dei Giardini Margherita, area verde a ridosso del centro città. Per il diciottesimo anno ritorna la rassegna musica ai giardini con un calendario di otto appuntamenti organizzati dal Comitato Provinciale di Arci Piacenza con il Comune, la Regione e la Fondazione di Piacenza e Vigevano. Si parte martedì 4 agosto alle 21.30 con Paola Quagliata, Library Trio. È importante perché noi presideremo questo spazio con concerti di un certo tipo, quindi concerti che assolutamente danno alla qualità della musica che dovrà essere per motivi di sicurezza non eseguiti non più che da un duo o da un trio, perché ci sono appunto delle regole, dato che il gazebo è abbastanza piccolo, non possiamo fare dei concerti, ma proprio per questo direi che è una qualità quasi cameristica. Che devo dire in uno spazio di questo genere sembrerebbe un po' improbabile, mentre ormai per conoscenza so che il martedì sera i Giardini Margherita si trasformano in un bellissimo teatro. È l'occasione per portare ai Giardini Margherita degli eventi, degli eventi di cultura, di musica, di alta musica che rappresentano dal nostro punto di vista non solo un'occasione per fare cultura, non solo un'occasione per uscire di casa per i piacentini che restano e saranno tanti, ma anche un modo per far rivivere e riqualificare delle zone importanti della città, perché il modo migliore per presidiare appunto zone dove in certi momenti è stato il degrado a prevalere è proprio quello di creare occasioni di incontro, creare occasioni di cultura. I concerti a ingresso gratuito proseguiranno ogni martedì fino al 22 settembre.